Ben ritrovate amiche e amici, come state? Un saluto di nuovo a tutti. Vi ricordo come sempre di partecipare numerosi a questa discussione che sta per nascere, sempre con civiltà e con rispetto. Lasciate un bel like se la pensate come me e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale personale di Breaking News che trovate qui sotto dove toccherò anche altri temi, dei temi singoli, approfondimenti singoli e quindi vi invito a iscrivervi qui sotto. Potete andare e tornare, in 10 secondi avete fatto tutto e poi qui sotto se volete distrarvi come si deve c'è il podcast di Van Basten che merita di essere visto. Allora ragazzi, male, 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 male davvero, male, 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 neanche il più pessimista, dei pessimisti, dei più pessimisti tra i tifosi milanisti avrebbe pensato di trovarsi alla terza giornata di campionato con appena due punti. Due punti in tre partite, zero vittorie. Un calendario neanche così proibitivo, perché comunque il Toro... che poi sta facendo bene per carità, il Parma che sta facendo bene però, beh, sempre ne ho promossa, la Lazio che aveva problemi ieri e quindi davvero molto male, molto male e quello che fa più male è la sensazione che questa stagione difficilmente svolterà e diventerà una stagione indimenticabile per successi e vittorie. Ovviamente poi siamo all'inizio, però bisogna essere molto aderente alla realtà. Oggi il Milan è una polveriera, il Milan è un caos incredibile a tutti i livelli. Non si salva un livello, voi di tifosi, non per fare il paraci, puntini puntini, ma perché questo è. Voglio partire subito con un documento che per me è incredibile, nel senso che neanche se fai apposta si può realizzare una cosa del genere. Poi parliamo del signor advisor, eh? Ne parliamo, è come se ne parliamo. E quello che vi sto per far vedere, oltre ad essere disarmante e a dir poco preoccupante per la nostra guida tecnica, cioè Paolo Fonseca. Poi parliamo anche dei due ribelli. Insomma, partiamo subito però da questo documento. Si dice, sbagliare umano, perseverare è diabolico. Non imparare dei propri errori è gravissimo. Ecco. Appoggio per un attimo il telefono, vi faccio vedere il PC. Guardate che cosa vi sto per mostrare. E guardate la ripetitività. Le analogie frequenti. La trama sempre la stessa. Sei gol, fotocopia. Azione sulla destra. Gol sul secondo palo. Inserimento dell'esterno. Azione sulla nostra destra. Palla dentro. Taglio. Gol. Questa è la prima partita. Azione contro il Parma. Sulla nostra destra. Palla dentro. Taglio. Gol. Azione sulla nostra destra. Per il buco di Amerso Royal. Accelerazione. Palla dentro. Taglio dall'esterno. Gol. Ieri. Azione sulla nostra destra. Palla dentro. Sul secondo palo. Taglio dall'attaccante. Gol. Azione sulla nostra destra. Palla dentro. Taglio dall'attaccante. Gol. Tutti gol identici. Sei gol identici. Tutti alla stessa maniera. Fascia destra. Raddoppio. Palla che taglia l'aria. Inserimento. Gol. Tutti identici. Io dico una volta. Due. Tre. Quattro. Cioè tu non sei riuscito a porre dei correttivi. Abbiamo dovuto subire sei reti identiche. Oggi senza rimedio. Questo è un problema tattico clamoroso. Ed evidenzia. Oggi. Oggi. Una inadeguatezza clamorosa dal punto di vista intanto tattico di Paolo Fonseca. Cioè. Neanche all'oratorio si subiscono sei reti tutte uguali. Questo è disarmante. È desolante. È incredibile appunto. Perché non ho mai visto una cosa del genere. Sego il fotocopia. È l'allenatore che continua a non capirci nulla. Quindi Fonseca è responsabilità. Assolutamente sì. Aggiungo. Chi ce l'ho più con Leo Conteo. Ma non salvo Fonseca. Aggiungo. Che con un allenatore. Di personalità. I due signorini. Non si sarebbero mai permessi di fare quello che hanno fatto. E qui però. Non è che colpa di Fonseca. Se non ha personalità. È colpa di chi l'ha messo. E di chi sapeva. Anche che questo è un gruppo. Mediamente. Privo. Di. Senatori. Trascinatori. Con principi forti. Con capacità di carisma. Che possano guidare il gruppo. E quindi serviva uno che. Ribaltava il gruppo. La terapia d'urto. L'effetto shock. L'abbiamo detto. Questo quindi la società lo ha ignorato. Mettendo Fonseca perché prende poco. E perché. Non ti rompe le scatole. Quello che hanno fatto Teo Hernandez. E Leao. Per me. Ribadisco. È gravissimo. Non è da Milan. Cioè. Ora. Torniamo. Proviamo un po' a. Estrarre il valore. Dai due giocatori. Pensiamo che sono due giocatori. Ma non sappiamo chi sono. Ok. Anzi. Pensiamo che quei due giocatori. Siano. Terraciano. E. Emerson Royal. Perché qualcuno salva ancora. Teo Hernandez. E Leao. Se avessero fatto questa cosa. Terraciano. Ed Emerson Royal. Il vostro parere. Sarebbe lo stesso. Oppure no. Lo dico a chi. Difende. Leao e Teo Hernandez. Per me sarebbe stato. Quasi meno accusatorio. Perché è più grave che. Piaccio pure no. Sono senatori del Milan. Perché hanno anzianità. Facciano una cosa del genere. Parliamo del vice capitano. E dell'altro vice capitano. È ancora più grave questo. E non mi interessa. Se sei forte. Se ci puoi far vincere. O pareggiare le partite. Come è successo ieri. Tu in quel momento. Non stai meritando. La maglia del Milan. E su questo. Bisogna riflettere. Anche in estate. Attenzione. Perché è una cosa. Che non si è mai vista. Sui campi di calcio. Mai e poi mai. Poi mi sono rivisto. Ancora l'immagine. Non avevo bisogno. Del cooling break. Dice Teo Hernandez. Beve. Quindi fa il cooling break. Leao. Beve. Si rinfresca. Avete fatto il cooling break. Dall'altra parte. Ma vi ricordate. Quello che avete fatto. Oppure no. Poi capisco. Che mettere una pezza. Non sia facile. Ma qui ripeto. Secondo me. È peggio del buco. E poi. Perché. I due. Che sono entrati insieme. Ebram. E. Musa. Vanno a fare il cooling break. Loro hanno deciso. Che le indicazioni di Fonseca. Ascoltare le indicazioni di Fonseca. In quel momento. Non fosse. Non fosse importante. Loro sono entrati. Con i Milan sotto. Quindi. Con un piano di gioco. Il cooling break. Con i Milan. Che ha pareggiato. Quindi. Il piano di gioco. Cambia. Bisogna continuare ad aggredire. Bisogna aspettare la Lazio. Che movimenti dobbiamo fare. Se ne sono infischiati. Hanno mancato di rispetto. All'allenatore. Alla società. Alla squadra. Ai compagni. E anche ai tifosi. Non mi interessa. Se sono i più forti. Queste cose qui. Non vanno bene. E se ci sono due elementi così. Ci sono problemi nello spogliatoio. Mi spiace. Non guardo più in faccia a nessuno. Perché prima era sempre colpa di Pioli. O della società. E i giocatori. No. Ho sbagliato anch'io. A non guardare certe cose. Ora però. Le guardo. E dico quello che penso. Come ho sempre fatto. Comportamento. Inaccettabile. Di questi due. Che si devono vergognare. Per quello che hanno fatto. La società deve intervenire subito. Sì. La società. Quale società? Perdiamo con il Parma. E non si presenta nessuno ai microfoni. Ieri succede una cosa così grave. E chi c'è? Chi c'è? Cioè. Moncado dovrebbe andare a parlare a Leao e a Teo Hernandez. Scusate. L'espressione un po' colorita nel contenuto. Ma i due gli ridono in faccia. Furnai dovrebbe andare a parlare e dire queste cose non vanno bene a Teo Hernandez e Leao. Scusate. Ma i due si fanno una grassa risata. Chi deve andare. Che è stato preso anche per questo. Si chiama Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di Redbird. Che bello no? Con questi termini. Riempirsi la bocca. Dici caspita. Che super manager. No. Uno stagista. Ma nei prossimi giorni mi concentrerò in un video dedicato a Zlatan Ibrahimovic. Senza pensare. Oggi parleremo di quello che è successo ieri. Parleremo di tutto quello che è successo prima. Relativamente a Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor Zlatan Ibrahimovic. Non c'è. Dice impegnato. In chissà quale trattativa. Operazioni di mercato. Perché è chiuso. Anche se potresti comunque prendere il rabbiò. Dici no. Eeeh. A parlare con possibili investitori. No. È in vacanza. È in vacanza. In un momento così delicato. in cui i campanelli d'allarme risuonavano già da tempo. In cui l'inizio di mina è stato incredibilmente scioccante. Lui è in vacanza col costumino. E cara grazia che non ha fatto la storia almeno fino a questo momento. Perché sarebbe. Ulteriormente strafottente. Lui. Si è fatto scivolare di mano questa situazione. Lui non è stato in grado di intervenire in settimana. Nelle scorse settimane. Lui. Evidentemente. Dicendo. Tra le altre cose. Il mercato l'abbiamo fatto prima dell'arrivo di Fonseca. Come dire. Conta nulla. Ha in qualche modo anche. Delegittimato un po' l'allenatore. Agli occhi dei giocatori. Di questi. Quanto meno. O comunque. Non lo ha difeso a dovere. Perché. Perdiamo col Parma. Ibra non dice nulla. Neanche in settimana. La settimana col Parma. Lui. Si è visto che ha fatto la storia con Ambrosini. Il giovedì. Ma lui. Pretende che si faccia la conferenza stampa di. Presentazione di Fofanai. Il sabato. Quando c'è la partita tra Parma e Milan. Anzi. Tra Milan e Torino. Perché lui. Deve essere presente. Perché il giorno dopo deve andare in vacanza. Da domenica a giovedì. Ditemi voi. Se è una cosa normale. Questo è un momento. Purtroppo già cruciale della stagione. E Ibraimovic è in vacanza. Non è una cosa normale. Il giorno della partita. No. 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 Mi spiace. Ma tu dici. La società deve intervenire. Sì. Ma quale società? E poi no. Divengono al pettine. Purtroppo è così. È una società. Che assente. E anche quando presente. Assenze. E assente incompetenza. Anche quando ci sono fisicamente. Non sono all'altezza. Però almeno ci sei. Provi. Stai. Fai. No. Qui. Il signor advisor è in vacanza. Non è una cosa normale ragazzi. Purtroppo. A ogni livello. Io vedo tanti. Tanti. Tanti problemi. Proprietà. Dirigenza. Allenatore. Squadra. È così. Poi se volete sentirvi dire. Non facciamo drammi. Non è un caso. Non è vero. Il cooling break. È una cosa. Perché loro erano appena entrati. Eccetera eccetera. Andate pure a guardare altri. Altri canali. Ma la verità. Viene sempre a galla. I nodi vengono sempre al pettine. E su questo. Avevamo messo in allerta da tempo. Ma non io. Cioè. Non è che ci volesse una scienza. L'avete visto anche voi. Che oggi Milano non ha una società. Non ha una società forte. Quanto meno. Per me non ha una parvenza di società. E poi. Tutto si rispecchia. Anche nello spogliatore. Doio. Perché. I stessi giocatori assorbono. Quello che c'è attorno. E queste sono conseguenze anche. Della mancanza a certi livelli. Quindi. Ibra in vacanza. Ragazzi. Commentate voi. Teo Hernandez. Eleao. Ieri. Non hanno meritato la mai del Milan. Non mi interessa se sono forti. Sono. Seriamente. Deluso. Dal loro comportamento. E credo che questo spogliatoio. Abbia bisogno. Avrà bisogno. Perché adesso non puoi intervenire. Con anche. Cambiare certe cose. Ma puoi fare qualcosa con Ibra. Quando tornerà dalla vacanza. Credo che questo spogliatoio. Questo gruppo. Oggi non abbia lo zoccolo duro. Che dici. Interviene. Che certe cose non devono accadere. Ma chi prende. Dei giocatori. Leao e Teo. Da un orecchio. E dice. Non permetterti. Non ci sono più. Nello spogliatoio. I Maldini. I Nesta. I Gattuso. Però manca. Anche un gruppo forte. Che secondo me. Nel anno dello scudetto. C'era. Ed era. Rispetto agli ultimi dieci anni. Alla massima espressione. Quel gruppo. L'hanno disintegrato. Commentate. Lasciate un like. Iscrivetevi qui. Fonseca. Mi sembra. Clamorosamente inadeguato. Ci vediamo più tardi. Magari sul mio canale personale. Qui sotto c'è il link. Grazie. Se vi iscrivete. Guardate anche il podcast di Van Bastien. Che trovate nel link. Un abbraccione.